Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. C'è un vincente. C'è un vincente. C'è un vincente. C'è un vincente. Il 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 vincente. Non ci penso, però sai, è come mettere una lepre davanti a un levriero, la lepre comincia a correre e il levriero lo segue, e questa per me è l'NBA, io devo correre per cercare di raggiungerla, poi magari non la raggiungerò, fra quattro anni sarò in B1 a giocare da quattro, però voglio fare tutto quello che è nelle mie corde per poter raggiungerla, mi diranno che non so tirare da tre, che non so palleggiare con la mano sinistra, che sono lento, però è un sogno, è un'aspirazione, come il secchione della classe che vuole il 10 al posto del 9 in matematica, e quello lì mi tiene umile, mi tiene voglioso di dare, di fare, questa è solo un'aspirazione che sta lì, però non sono presuntuoso nel dire io sono pronto, io voglio l'NBA. We can make it through judgment day, we won't go fainta away, all I ever know must be heaven where you come from We can make it through cloudy skies, by your side I feel alive All I ever know must be everywhere you come from Oh, 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 oh